Benvenuti in questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare la scelta che ho fatto nell'ambito degli strumenti per registrare i video che poi carico sul mio canale YouTube ovvero quegli strumenti che si chiamano screencaster o registratori dello schermo il presente video l'ho intitolato come registro i miei video seconda puntata perché seconda puntata? perché sul mio canale YouTube un po' di tempo fa avevo già pubblicato un primo video intitolato appunto come registro i miei video due mesi fa quindi io lavoravo ancora con Ubuntu 10.04 e tutti i video fino ad oggi diciamo li ho sempre registrati con un comando terminale basato sul programma FFMPEG famoso programma che converte, registra, formati audio, video eccetera eccetera ecco a quel tempo avevo fatto questa scelta perché mi dava i risultati decisamente qualitativamente migliori adesso ho installato Ubuntu 12.04 e le cose sono un po' cambiate un po' cambiate soprattutto a livello di questo programma FFMPEG da terminale che diciamo non è più previsto nella dotazione non è più previsto perché è stato sostituito da un comando avconv che è praticamente un suo gemello è nato da un progetto che si è staccato da FFMPEG è un ramo cosiddetto fork nel gergo si dice che è un fork c'è una biforcazione di un progetto prima c'era solo il progetto FFMPEG e poi un gruppo di sviluppatori ha deciso di dividersi, di separarsi e di creare un altro progetto che però ha ripreso la base di FFMPEG quindi è praticamente un gemello però diverso ecco, un gemello diverso e io ci ho provato naturalmente ad adattare il comando che usavo due mesi fa anzi fino a poche settimane fa a questo punto ancora su Ubuntu 10.04 io ci ho provato a ricreare la stessa situazione quindi dico, vabbè, userò avconv invece di FFMPEG però potrò andare avanti in questo modo e invece non è proprio così perché purtroppo, o per fortuna a dipendenza dei punti di vista registrando, usando diciamo la stessa tecnica non ottengo gli stessi risultati ecco, in questo stesso momento vedete che sto usando per registrare proprio adesso il comando avconv, lo vedete qui avconv con tutti i suoi parametri bla 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 sto registrando il mio video, seconda puntata, eccetera eccetera da terminale però probabilmente avrete già notato che magari un po' i colori ma soprattutto il movimento del mouse che adesso sto muovendo verso l'alto e poi verso il basso non è per niente fluido ci sono dei frame, quindi delle immagini del video che vengono saltate, non vengono registrate, eccetera eccetera ecco, ho provato in tutti i modi con varie impostazioni, varie codifiche video, eccetera ma quella che sto usando è ancora la meno peggio però la fluidità che avevo prima su Ubuntu 10.04 con FFmpeg non riesco più ad ottenerla almeno allo stato attuale ad oggi non riesco più ad ottenerla a questo punto vi nascerà spontanea la domanda ma allora cosa lo usi a fare se non ti dà lo stesso risultato e stiamo vedendo che non è un granché come qualità beh, lo uso temporaneamente ed eccezionalmente questa volta perché vi voglio presentare il prodotto lo strumento che in realtà userò poi dalla prossima volta in avanti ma siccome non posso usare quel prodotto per registrare se stesso ho dovuto scegliere l'alternativa diciamo, questa è la riserva l'alternativa, la soluzione di riserva in caso di emergenza resta pur sempre questa del terminale che se non altro c'è l'audio sincronizzato col video e non come in altri prodotti che addirittura è fuori sincronizzazione per altre cose ha i suoi difetti però è una soluzione che comunque mi permette perlomeno di presentare un video sufficientemente decente e visibile allora, mettiamo a icona il nostro terminale che sta facendo il suo lavoro e ecco tornando al tema principale quindi cosa ho deciso di usare dalla prossima volta in avanti per registrare i video ovvero la soluzione migliore fra tutte quelle che ho provato la meno o peggio secondo dei punti di vista comunque quella che mi dà sicuramente i risultati migliori almeno nel mio pc nella mia situazione quindi dopo vari test come scrivo qui sono giunto alla conclusione che l'unico strumento che fornisce risultati validi sia EIDETE non so se la pronuncia è questa se sia EIDETE quello che è comunque che fa parte è uno dei progetti degli strumenti sviluppati dal progetto Elementari OS per chi segue un po' l'ambito Linux sa che Elementari OS è una distribuzione Linux alternativa Ubuntu OpenSUSE e altre con tutto un loro stile particolare sia graficamente sia appunto con questa caratteristica che si stanno creando da zero i loro strumenti vari tipo la gestione di poste la gestione delle note la gestione della registrazione dello schermo video eccetera si ricreano praticamente dei loro strumenti dei loro programmi sulla base magari di librerie conosciute però si creano tutto un po' da zero ecco stanno creando un ecosistema elementare tutto loro non avanza in modo velocissimo a dire la verità a questo progetto però ha delle buone idee e si ottengono anche dei buoni risultati con certi con certi loro moduli uno dei quali appunto è questo Edite ecco altri sistemi o non sono più sviluppati o forniscono risultati non validi con l'audio fuori sincrono file troppo grossi qualità video scarsa eccetera 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 ecco in effetti ci sono altri altri sistemi per registrare il proprio schermo del pc tipo il famoso record my desktop e così però sono anni che non avanzano di versione sembra che non siano più seguiti ecco io anche se magari funzionano egregiamente ma non è che mi fido più di tanto ad usare questi programmi che poi restano indietro anche di tecnologia può darsi che voi vi affidiate a questi programmi che non vengono più sviluppati né seguiti e a un certo punto magari iniziano a non più funzionare e vi ritrovate a piedi ecco senza mezzi e non sapete perché per come perché vari questi programmi sono rimasti troppo indietro rispetto al resto dell'ecosistema linux che state usando ecco quindi io preferisco usare strumenti che sono attivamente sviluppati in modo che restino aggiornati con la tecnologia che avanza edite al momento è uno strumento che viene almeno finora più o meno regolarmente aggiornato non dico tutti i giorni ovviamente per carità ma se non altro è vivo ecco come progetto andiamo avanti edite è giovane e diciamolo pure anche immatur lo dicono loro stessi sulla pagina del progetto che è qua edite ospitato edite su Launchpad la piattaforma di collaborazione di Canonical Ubuntu e vedete edite screencaster ecco questa qui è la pagina del progetto fa parte dell'elementare team vedete qui la parte di elementari ecco qua lo vedete qui a sinistra e voilà questa è la pagina del progetto quindi edite comunque è giovane molto giovane però il suo lavoro di base lo fa già egregiamente questo ve lo assicuro però l'ho provato un po' in tutti i modi e usandolo normalmente senza troppe complicazioni funziona già egregiamente ecco quindi questa è la pagina del progetto e come lo installiamo ecco per installare edite che non è o non è ancora nei repository ufficiali di Ubuntu dobbiamo usare due PPA quindi due repository esterni dei quali uno è questo quindi vi dovete aggiungere questo PPA che vi porta edite stesso cioè l'interfaccia grafica che vedremo fra un attimo di questo strumento proprio edite e poi questo edite per funzionare ha bisogno di un paio di altri pacchetti che si trovano in quest'altro PPA che è questo eccolo qua elementare questo qui è proprio il PPA principale del progetto elementare OS che è ospitato anche lui su Launchpad ecco qua dentro ci sono un paio di pacchetti di dipendenze si dice di edite quindi edite usa si appoggia su questi per funzionare di cui uno mi sembra sia Granite o Granite non so mai sicuro come pronunciare questi nomi di pacchetti in inglese e l'altro se non erro è Contractor questo quindi Contractor è uno e Granite è l'altro ecco insomma abbiamo bisogno di questi due PPA per poter avere edite a disposizione ecco detto questo ve lo posso confermare quanto ho appena detto aprendo lo butto software center così vi faccio vedere cosa ho già installato io e quindi avremo la conferma ecco allora i due PPA che ho appena citato sono uno edite daily builds eccolo qua e l'altro è elementari daily eccolo qua elementari daily edite daily builds ecco e l'edite come ho appena detto gli permette di installare il pacchetto edite che lo vedete qua o edite mentre dall'altro elementari daily installate gli elementi che lui ha bisogno ecco uno è lib granite zero granite zero e l'altro è il Contractor ecco mi sembrava di ricordare giusto quindi questi tre pacchetti una volta installati tutti e tre funzionano assieme per permettervi di usare edit voilà questo possiamo anche chiuderlo e edite cosa offre perché l'ho scelto infine perché bisogna pur dirlo che quello che ho provato ha ognuno ha qualche difficoltà a gestire la registrazione video del nuovo Ubuntu soprattutto di Unity con le dash non dash trasparenza ogni tanto ci sono quelle che io chiamo qui sotto artefatti o flash cioè ci sono un po' dei menu sfuggenti ogni tanto perché non so se sia Compiz Unity interfaccia accelerazione grafica 3D non lo so che cosa sia ma tutti questi strumenti di registrazione dello schermo hanno un po' una cosa in comune che è una certa difficoltà a registrare in modo ben nitido e statico certi effetti come la dash o l'ad ecco il famoso ad che ricerca le opzioni di menu dei vari applicativi aperti che sono in trasparenza che appaiono in trasparenza che sapete benissimo di cosa sto parlando se usate Unity in che voi ecco tutti questi strumenti di registrazione video hanno un po' un po' in comune questo problema ecco di questi artefatti o flash che appaiono durante la registrazione del video io me ne scuso già che sicuramente qualcosa sarà apparso anche durante questo video o qualcuno precedente comunque sono inevitabili almeno lo stato attuale mi pare vedendo anche altri video registrati da altri siano poi inevitabili quindi bisogna sopportarli anche Edit non fa eccezione però tutto sommato calcolando i vantaggi e questo svantaggio ho deciso che è il mio strumento è la mia scelta allora Edit come sicuramente potrete constatare nei successivi futuri video che farò ha un'ottima qualità video e audio sincronizzati ovviamente ma proprio specifica qualità di uno e dell'altro buona sincronizzazione è praticamente perfetta l'ho verificata anche registrandomi in una webcam quindi quando muovo le labbra è ottima la sincronizzazione quindi questo è precisamente un punto a favore ecco l'interazione con HUD il menu HUD e la DASH magari un po' migliore che con altri strumenti o magari così così quello che ho appena detto prima però bisogna sopportare questi difetti di registrazione c'è niente da fare finora io parlo sempre dello stato attuale poi chissà prossimo futuro magari si stabilizzerà qualcosa di meglio la codifica è tutta in formati liberi altro punto molto importante per noi fautori del mondo open source ma comunque indipendentemente formati liberi sempre meglio che formati chiusi niente problemi di licenze qualità buona tale quale la parte video viene registrata in on2vp8 che è il formato libero acquistato da google e l'audio con il codificatore vorbis so forbis che ha anche famoso formato libero per l'audio e il file risultato è un tipo webm già compatibile con youtube e il famoso html5 che è il futuro dei player multimediali a livello web ed è quello che sta lentamente facendo morire il famigerato flash tra l'altro quindi html5 è molto molto importante e il video che ottenete con edt è già in questo formato favorevole ad html5 quindi si evita flash attivando qui ho scritto un refuso attivando si evita flash quindi attivando la modalità html5 su chromium per youtube ecco questa qui è una parentesi tra l'altro che volevo fare che c'entra poco con edit ma magari non tutti lo sanno se come browser web cioè come navigatore web avete adottato anche voi chromium o chrome di google potete andare a questo indirizzo che poi vi metto nel commento eh per non dimenticarmelo visto che non me lo sono messo me lo scrivo me lo riporto adesso qua così ve lo metterò nel commento ecco andate semplicemente a questo indirizzo specifico per youtube questa cosa e potete attivare qui vedete io l'ho già attivato potete attivare la modalità html5 quindi il futuro ecco siccome io l'ho già attivato su questa pagina a me appare esci dalla versione di prova html5 perché è ancora in beta in prova questa versione potete leggere qua sopra i browser supportati bla 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 tutto quello che volete leggetevelo pure tranquillamente e se io non l'avessi ancora attivato qui sarebbe scritto attiva la versione di prova html5 quindi questo qui è un link un po' come un interruttore no? l'ho attivato c'è scritto così lo disattivo ci sarà scritto cosa ecco io naturalmente l'ho attivato subito allo stato attuale se voi guardate i video su youtube tutti quelli che non hanno i banner pubblicitari li vedrete già in html5 quindi li vedrete già fregandomene di flash in quel momento non state guardando i video di youtube senza più aver bisogno di flash al momento immagino io perché siamo ancora in versione beta e di prova i video che prevedono i banner pubblicitari quindi le pubblicità che appaiono nel lato inferiore del video sono ancora dirottate diciamo così sul plugin flash di adobe immagino che nella versione definitiva non so se manchi tanto o manchi poco anche quelli con i banner pubblicitari passeranno anche loro attraverso l'html5 il player html5 questo è importante questo è un consiglio che a fianco di ADT ho voluto darvi perché magari non tutti sanno che si può già attivare è già da un bel po' che c'è questa cosa si può attivare la versione html5 così il più possibile fin dove è possibile quando potete userete automaticamente html5 almeno in ambito youtube se no si ricade ancora nel flash quando necessario ma il futuro è segnato ecco questo volevo dirvi e il risultato andiamo avanti con i punti a favore di edit il risultato è un file di dimensioni diciamo tutto sommato ridotte malgrado video magari anche lunghi però non molti megabyte in confronto a quello magari che ne so di un video tipo AVI che non è tanto compresso eccetera magari non fuori gigabyte di roba qui è un video diciamo di dimensioni piuttosto ridotte e anche la cpu non è usata completamente le cpu del vostro pc per lo sforzo di registrare il video ma moderatamente più o meno metà o un po' meno della metà della disponibilità delle cpu è usata da edite ma non esagera ecco quindi vedete che ci sono molti punti a favore l'unico punto proprio negativo è un po' l'interazione difficoltosa con i menu a dash i vari pannello superiore che forse qualche artifatto dovuto al compiz succede ogni tanto non sempre purtroppo è l'unico punto un po' negativo ma vedete che i punti positivi sono parecchi ecco adesso per chiudere questo tutorial naturalmente ve lo devo far vedere questo edit vi ho raccontato Mario e Monti che è bellissimo però adesso ve lo posso mostrare ecco la sua icona è questa vedete una specie di come dire una camera una videocamera stilizzata a forma di di schermo del pc sembra richiama un po' da una parte lo schermo del pc dall'altra una videocamera con la sua maniglia per tenerla tenerla in mano quindi si fa click per far partire edite e appare la sua finestralina molto semplice ecco come dicevo è molto giovane è in sviluppo infatti se schiacciate il pulsante informazioni qua sotto vedete che dicono che è un development release quindi un rilascio di sviluppo non tutte le feature non tutte le funzionalità sono implementate e quindi fare attenzione che comunque può essere anche instabile di volta in volta perché ci stanno lavorando ecco comunque è molto semplice da usare una volta avviato avete qua sopra behavior comportamento e appearance il come come con con quali caratteristiche deve registrare il video ecco dall'esperienza fatta appearance spero accidenti come si pronuncia appearance appearance ma per carità abbiate pietà della mia pronuncia comunque questo tab lo lasciamo perdere perché se attiviamo uno o più di queste opzioni edete molto probabilmente andrà male andrà a finire male in crash quindi per il momento anche se possa essere interessanti per qualcuno ma lasciamo le perdere concentriamoci solo sul behavior che ci permette di registrare dal microfono se lo vogliamo possiamo anche fare un video senza audio ma comunque registrare dal microfono qui basta cliccare qui il monitor se ne fosse più di uno mi permetterebbe di scegliere io ho un monitor solo quindi ho grigi alta la tendina monitor 1 posso registrare tutto lo schermo o custom cioè poi scegliermi un'area dello schermo cioè appare una sagoma rettangolare che io posso regolare in ampiezza e quindi mi registra solo l'interno di quella oppure il classico full screen e poi l'ultima cosa da fare è schiacciare il record cioè per partire a registrare ecco non lasciamo perdere l'audio intanto vi voglio solo mostrare che è così semplice da usare quindi si schiaccia il record e in questo momento viene fuori questo pannello che dice la registrazione parte fra 5, 4, 3, 2, 1, 0 ecco adesso sta registrando vedete qui sul launcher di unity che c'è il triangolino qua spero che la registrazione funzioni bene accanto all'icona di edit vuol dire che è attivo sta lavorando e in questo momento potete parlare registrare e fare tutto quello che volete se fate un click sull'icona di edit immediatamente va in pausa recording pauset ecco vedete in questo momento edit è fermo è sempre vivo attivo ma fermo vi arriva una telefonata dovete far qualcosa di urgente mettete in pausa mettete in pausa e qui poi avete le opzioni di annullare quindi interrompere completamente perdere tutto il vostro lavoro diciamo così record more cioè andare avanti a registrare quindi tornate dalla vostra telefonata ripartite schiacciate qui edit si riattiva immediatamente potete ricominciare oppure finish finish vuol dire che ho finito il mio tutorial o quello che stavo facendo e lo voglio salvare quindi finish schiaccio finish e mi viene fuori una bella finestrellina che mi dice ok recording done che vuol dire è fatto e adesso punto di domanda a noi interessa il resto sono dei upload caricamento in un posto web del video non mi interessa postler è il gestore di client email del progetto elementare non mi interessa ma quello che mi interessa è salvare save as file salvare come file quindi si schiaccia qui si schiaccia scusate go e poi vi presenta il classico dialogo di Nautilus per salvare per salvare il vostro video che appunto vedete in formato webm gli da un nome con un numero progressivo per renderlo univo col file voi potete nominarlo come volete fate ok e avete salvato e avreste salvato il vostro il vostro video con o senza audio avete visto ecco tutto qui veramente banale semplicissimo e direi che per la sua giovane età funziona benissimo quindi il mio consiglio è almeno per la mia dotazione pc in questo momento è usare edit o io comunque userò dai prossimi video dal prossimo in avanti edete finché non troverò niente di meglio o finché chi lo sa il futuro ce lo dirà comunque per il momento la mia scelta è edete e soprattutto vi ribadisco l'altro consiglio quello che vedete qui tuttora rappresentato sullo schermo attivate mi raccomando la versione di prova html5 così iniziate già a usare il player del futuro quello che ci permetterà di abbandonare il famigerato flash di adobe grazie per l'ascolto spero che malgrado la soluzione alternativa qui di registrazione del video il video sia godibile comunque e vi attendo alla prossima produzione di video tutorial da parte mia grazie per l'attenzione e ciao 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 Grazie a tutti.